Nonostante la severa mannaia del piano di rientro e la cura da cavallo a base di tagli e risparmi, la sanità calabrese resta oberata dalle perdite che si aggirano complessivamente intorno ai 100 milioni di euro. Questo buco di portata galattica viene coperto dal gettito delle aliquote fiscali pagate dai calabresi per il piano di rientro e dalla quota sociale delle prestazioni socio-sanitarie dovuta dalla regione al servizio sanitario regionale, garantendo così il pareggio di bilancio. In questo scenario desolante però ci sono isole virtuose che riescono ad affrontare la situazione in modo appropriato, riuscendo addirittura a conseguire degli utili. Ecco perché risulta illuminante il recentissimo decreto 165-18 a firma del Dipartimento Tutela della Salute della Regione del commissario ad acta Massimo Scura, che conclude l'iter di approvazione definitiva del bilancio 2016 della sanità calabrese, soprattutto se lo si confronta con i dati del Consuntivo 2017. I dati 2017 sembrano migliorativi se scorporati e riferiti alle singole aziende sanitarie e ospedaliere, ma non devono trarre in inganno, in quanto accanto alla perdita delle aziende si sono parimenti ridotte le coperture finanziarie e quindi il risultato del 2017 è leggermente peggiorativo, raggiungendo dai 99,4 milioni di euro del 2016 i 101 milioni di perdita dello scorso anno, ai quali vanno comunque tolti circa 8 milioni di quota sociale dovuti dalla Regione, consentendo così alla sanità commissariata per il quarto anno consecutivo l'equilibrio finanziario, da non confondersi con quello economico, che è richiesto per la fine del commissariamento. Facendo un confronto tra 2016 e 2017, si riscontra un andamento migliorativo per l'ASP di Cosenza, per l'ASP di Crotone, per l'ASP di Catanzaro e per quella di Vibo, che azzera la perdita 2016. Confermato e meritevole di apprezzamento il leggero utile dell'annunziata di Cosenza e dei riuniti di Reggio, purtroppo peggiora ulteriormente la perdita dell'ASP di Reggio di quasi 4 milioni. Il contenimento delle spese gestionali, a cominciare da quelle finanziarie di queste aziende, diventa fondamentale. Allo scopo è stato nominato un soggetto attuatore.